La Zia Rosa, su scuola, non puoi fare l'eponafoglio e abbiamo un taglio che non puoi fare l'eponafoglio che si va a fare l'eponafoglio e dico solo quale qui e c'è bene l'eponafoglio e qui c'è bene 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 e qui c'è anche una parte per il nord è venuto sui e qui c'è e qui c'è Sì, ora! Sì, ora! Sì, ora! Sì, ora! Sì, ora! la zero se stessi spogli non può fare un'aereo una coppia e abbiamo attagliato a 1.5% e si va a 4,4 e dico solo quale qui 10 mili di posto e qui qui dove è la zero se stessi spogli non può fare un'aereo una coppia e abbiamo attagliato a 1.5% e si va a 4,4 e dico solo quale qui che accendevi di riposo e qui la zero è stata suona, ci vanno a fare l'economia e nel montaglio ci vanno a fare l'economia che si vanno a fare l'economia e io sono a fare qui che accendevi di riposo e qui a fare l'economia a fare l'economia Grazie a tutti 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 Grazie a tutti